Ora, se trascorri 24 ore da solo e non ti piace ciò che vedi, come lo trasformi? Quindi va bene, hai già fatto il primo passo. Dobbiamo capire la differenza tra trasformazione e cambiamento. Le persone cercano sempre di cambiare se stesse. Cambiamento significa, ora questo è così, se lo rendo così, questo è un cambiamento, se lo rendo cos'ha, quello è un cambiamento, se lo rendo così, questo è un altro tipo di cambiamento. La qualità essenziale non cambierà mai. Quando diciamo trasformazione, la parola trasformazione significa che non è rimasto niente di vecchio, qualcosa di completamente nuovo e fiorito dentro di te. Ora guardi una pianta di rose, piena di spine. È arrivata la primavera e le rose sbocciano. È una trasformazione. Le spine sono ancora lì. Ci sono più spine che fiori. Ma non la chiamiamo una pianta di spine, la chiamiamo una pianta di rose. Grazie a quella singola rosa. L'attenzione di tutti è più rivolta verso quella singola rosa che verso le centinaia di spine sulla pianta, non è vero? Quindi, tutte le spine dentro di te, forse non puoi toglierle in questo momento. Ma, se una rosa sboccia, tutto quello, tutti sono disposti a trascurare quelle cose, non è vero? Sì? Quindi non devi stirarti e raddrizzarti nel modo in cui tu o qualcun altro pensa che sia il modo giusto di essere. No. Se puoi solamente renderti un essere molto gioioso, qualunque altra assurdità, stranezza o stravaganza tu abbia, le persone sono disposte ad accettarla. Sì o no? Se un fiore sboccia, le persone sono disposte a dimenticare tutte le spine in te. Ora inizi a staccare le spine. È un processo senza fine. Non accadrà. Quindi metterti a posto non significa staccare tutte le spine e raddrizzarti. E le persone che si sono sforzate di raddrizzarsi sono diventate così dritte. Nessuno vuole stare con loro. L'hai visto? Qualcuno che è tutto corretto, vuoi stare con quella persona? Orrore, non è vero? Quindi non si tratta di diventare tutto corretto. Se qualcosa in te sboccia, le persone sono disposte a trascurare tutte le spine che ci sono in te. Non ha più importanza. Anche se ci sono così tante spine nella pianta di rosa e solo pochi fiori, vuoi comunque averla, non è vero? Quindi questo è tutto ciò che deve accadere dentro di te. Devi sbocciare. Almeno in una sola dimensione, se sbocci, allora tutte le altre cose verranno dimenticate dalle persone. Questo è tutto ciò che deve accadere. Se questo deve accadere, cosa dovremmo fare? Non puoi estrarre un fiore da una pianta. Non hai mai pensato a un fiore, ma ogni giorno nutri la radice. Il fiore accadrà, non è vero? Quindi come nutrire le radici di chi sei? Hai una mente, hai un'emozione, hai un corpo, ma tutte queste cose stanno funzionando solo perché le tue energie vitali stanno funzionando, non è così? Sì? Stai facendo il boom boom in questo momento o sta accadendo? Il battito del tuo cuore lo stai facendo tu o sta accadendo? Sta accadendo. Il tuo respiro, ispirazione ed espirazione, lo stai facendo tu o sta accadendo? Sta accadendo. Tutto ciò che è vita sta accadendo, non è vero? È così? Sta accadendo, non lo stai facendo tu, perché nelle tue mani sai che disastro sarebbe ormai. Per fortuna non è nelle tue mani, sta accadendo. Quindi queste energie vitali ti fanno costantemente funzionare e accadere. E questo è ciò che devi nutrire. Se rendi le tue energie vitali, correttamente equilibrate e pienamente esuberanti, il tuo corpo, la tua mente, le tue emozioni saranno nella loro migliore condizione possibile. C'è un'intera scienza e tecnologia su come farlo. È questa tecnologia che viene chiamata yoga. ma sfortunatamente solo la fisicità dello yoga è arrivata in occidente. E adesso yoga significa solo che le persone si annodano tutte in impossibili posture che piegano le ossa. Lo yoga è la scienza e la tecnologia del nutrire le radici della tua esistenza affinché tutto il resto fiorisca naturalmente. Il fiore non arriverà perché vuoi un fiore. Devi fare la cosa giusta. Solo allora accade, non è vero? È così con tutte le cose nella tua vita. Se non fai le cose giuste, non accadrà. Se le cose giuste non stanno accadendo, ovviamente non stai facendo la cosa giusta.